Grande novità per Ballando con le stelle. Millie Carlucci avrebbe individuato una concorrente, proveniente sempre dal mondo della televisione, pronta a stupire tutti sulla pista. Il pubblico sarebbe felice di apprezzarla in questa veste e certamente si creerebbe un grande interesse. E c'è un particolare che farebbe immaginare che l'accordo sia sempre più vicino. Ballando con le stelle inizierà tra diversi mesi, ma anche durante l'estate Millie Carlucci non smette di lavorare. E avrebbe grande interesse verso questa concorrente, che potrebbe essere una delle ballerine più sorprendenti. Si è parlato nelle scorse ore della definizione dell'accordo con Francesco Paolantoni e ora abbiamo già il nome di un'altra possibile protagonista. A parlare di Ballando con le stelle è stato il portale TV italiana, che ha diffuso la notizia secondo la quale Millie Carlucci avrebbe ormai rotto gli indugi e puntato su questa concorrente. Lei è stata protagonista in un programma televisivo non Rai, ma ora sarebbe intenzionata a dare il meglio di sé anche nella televisione pubblica italiana. Secondo TV italiana potrebbe partecipare Nadia Mayer, l'agente immobiliare di casa a prima vista. Nadia Mayer di casa a prima vista sta prendendo lezioni private di danza con Filippo Zara, ballerino professionista nel cast di Ballando con le stelle. E si pensa quindi che voglia approdare nel programma di Rai 1 per mettersi in gioco a dovere. Aveva già pescato da Realtime in passato Millie, quando riuscì a convincere Enzo Miccio e Federico Fashion Style. Vedremo se davvero Nadia Mayer accetterà questa eventuale proposta. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.